Benvenuti a questa edizione del telegiornale di Toscana TV nella lingua dei segni. Un uomo di 93 anni è morto questa mattina dopo essere stato investito fuori dalla sua abitazione a Cucigliana nel comune di Vico Pisano. L'uomo è morto sul posto pochi minuti dopo l'arrivo dei soccorsi. In stato confusionale la donna alla guida dell'auto che è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Non è escluso che abbia avuto un malore. La polizia municipale ha avviato i rilievi e la ricostruzione dell'incidente stradale. C'era anche un ragazzino di 14 anni tra i lavoratori trovati durante un controllo interforze in una ditta di confezione di Vajano a Prato, gestita da due cittadini del Bangladesh, entrambi poi denunciati proprio per aver avviato al lavoro un minore di 15 anni, cosa vietata dalla legge. Denunciato anche il padre del ragazzino, anche lui di nazionalità bengalese, per avere consentito che ciò avvenisse. In una seconda azienda con sede a Montemurlo, e anche questa gestita da un cittadino del Bangladesh, sono stati trovati lavoratori a nero, tre dei quali clandestini. Per questo motivo sono state fatte ammende e sanzioni per un totale di 87 mila euro, sospesa l'attività di entrambe le ditte. Due marescialli allievi della Scuola Carabinieri di Firenze sono intervenuti in soccorso di una donna vittima di molestia sessuale, permettendo così l'arresto dell'aggressore. È successo giovedì sera nel parcheggio del centro commerciale Igigli a Campi Bisenzio. I due allievi hanno poi allertato i carabinieri della stazione di Calenzano, che hanno arrestato in flagranza di reato, per l'ipotesi di violenza sessuale, un cittadino pakistano di 24 anni. In particolare l'uomo aveva avvicinato la donna mentre era intenta ad uscire dal centro commerciale con la figlia, una bimba piccola portata nel passeggino. In una colluttazione tra due persone avvenuta ieri sera in un ristorante di Stazzema in Versilia, un uomo ha aggredito un altro colpendolo con un attizzatoio. L'uomo colpito ha riportato un trauma cranico e inizialmente sembrava grave, poi si è ripreso ed è stato portato in codice d'urgenza giallo al pronto soccorso dell'ospedale Versilia. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri di Seravezza. Con una miscela di gas hanno fatto saltare nella notte lo sportello automatico dell'ufficio postale di nave a Lucca. Il buato dell'esplosione ha svegliato gli abitanti dei palazzi intorno alle quattro. I malviventi hanno divelto una porta sul retro della sede, poi sono fuggiti a bordo di un'auto di grossa cilindrata, con un bottino che, secondo una prima stima, si aggirerebbe sui 90 mila euro. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri. Arrestato sempre dai carabinieri un uomo di 65 anni per l'accoltellamento di una donna a Torre del Lago. L'episodio è avvenuto giovedì sera. Secondo quanto ricostruito dall'arma, al culmine di una lite tra sua figlia ed un'amica, l'uomo ha colpito quest'ultima con un coltello per poi scappare. I carabinieri, anche grazie all'acquisizione e alla successiva analisi delle immagini di telecamere di sorveglianza, sono riusciti nel giro di poco tempo a rintracciare e bloccare l'aggressore, raccogliendo numerosi elementi di prova a suo carico. La ferita è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Versiglia di Lido di Camaiore, dove è stata giudicata guaribile in cinque giorni. Saranno 100 chilometri del progetto Ciclovia della Sieve, di cui il cuore saranno i 40 della pista ecoturistica del Mugello. Il nuovo progetto è stato avvallato dalla regione toscana, considerato Ciclovia di interesse regionale. La Sieve, percorsa dalla ciclopista dunque, si snoderà in parte nell'itinerario dei tre laghi, che collegherà Bilancino con il lago di Vicchio e quello di Londa. Qui potrà collegarsi con la Ciclovia dell'Arno. Centinaia di persone in fila dalle prime ore dell'alba davanti alla biglietteria del Teatro Guglielmi di Massa, per riuscire ad accaparrarsi un abbonamento alla stagione di prosa 2022-2023. Qualcuno ha addirittura dormito davanti al teatro per ritrovarsi tra i primi all'apertura della biglietteria. Il Guglielmi ha riaperto ad ottobre in occasione della festa di San Francesco, patrono della città, dopo cinque anni di chiusura dovuti ad un'inchiesta della magistratura, durante la quale erano stati posti sigilli alla struttura. A regolamentare la folla davanti alla biglietteria, anche gli agenti di polizia municipale. Torna Cammin Giochiamo, la camminata solidale per le vie della città, promossa dall'associazione Amo Pistoia e giunta quest'anno alla terza edizione. L'appuntamento è per domani, con ritrovo alle 9, in Piazza Duomo, dove verranno raccolte le iscrizioni con un'offerta minima di 5 euro e consegnate le pettorine colorate, mentre la partenza è fissata per le 10. Il ricavato è finalizzato all'acquisto di giochi inclusivi, adatti ai bambini da installare all'interno di parchi pubblici della città. La Regione offre un aiuto allo sport dilettantistico toscano in grave difficoltà per il rincaro delle bollette e lo fa mettendo a disposizione risorse per 1,5 milioni di euro attraverso un avviso i cui beneficiari saranno associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva, federazioni sportive e tutte le altre associazioni e soggetti privati senza scopo di lucro che abbiano, fra le attività statutarie, la promozione della pratica motoria e sportiva. Ad annunciarlo è stato il presidente Eugenio Gianni che porterà in giunta lunedì prossimo l'avviso per il sostegno allo sport toscano che verrà poi pubblicato entro la fine di ottobre. La Fiorentina si rituffa nel campionato dopo l'iniezione di fiducia e l'entusiasmo grazie alla goleada inflitta agli scozzesi dell'Hertz con la Conference League. Il prossimo impegno della squadra Viola sarà lunedì in trasferta contro il Lecce, una gara ostica per i Viola che sono ancora a caccia del primo successo esterno in questa Serie A. Finora, lontano da Firenze, hanno raccolto appena un punto, segnato un gol e subito tre sconfitte. Chiudiamo con le previsioni del tempo per la giornata di domenica in nottata e nelle prime ore della mattina parzialmente nuvoloso o nuvoloso sulle zone di nord-ovest con nubi di tipo basso, sereno altrove. successivamente velato con nubi sparse più frequenti sulle zone centro-settentrionali della regione, temperature pressoché stazionarie o il lieve aumento nei valori massimi. Era questa l'ultima notizia. Vi ringrazio per averci seguito e un saluto alle prossime edizioni.